ciao ciao a tutti se ti accorgi di avere a che fare con un idiota smetti subito di parlare insieme perché ti porta sul stesso livello e poi ti batte con l'esperienza questa frase di Mark Twain me la condivisa proprio l'altro giorno un manager che mi ha contattato per avere delle informazioni aggiuntive sulla soluzione che avevo condiviso sulle subscription e perché avevo parlato della comunicazione che i problemi si risolvono non smettendo di parlare però anche questo un punto di vista molto importante concentrazione concentrati in azione